ciao da francesco riportierecalcio.it in questo video ti presento i puma one protect 1 modello top della collezione puma d'inizio 2019 dotato di stecche protettive estraibili alle dita è un modello ignoprene quindi interamente ignoprene si vede sin dal polsino che è praticamente un tutt'uno con il guanto partiamo subito da una caratteristica interessante il guanto per essere seccato e ignoprene si infila abbastanza facilmente certo bisogna fare un po poi di lavoro per completare l'operazione ma nel complesso non è particolarmente difficile da indossare dicevamo il guanto ha stecche estraibili anche sul pollice la struttura è solo il lattice e ignoprene lattice sul palmo che è l'ultimate grip abitudine ormai da tanti tanti anni di puma di utilizzare questo lattice ottimo sull'asciutto un po meno sul sul bagnato il taglio è classico piatto a cuciture esterne perfetto per i guanti con le protezioni alle dita la mobilità è molto buona per essere un guanto con con stecche dicevamo del dorso il dorso è ignoprene e gel sul gran parte del dorso giusto c'è un po di lattice rinforzato sulla punta delle dita quello in colorazione rosso la struttura ignoprene è imbottita quindi non è un guanto leggero anzi è un guanto bello massiccio pur non avendo tanto lattice dicevamo del gel gel si vede ben evidente ben rilievo e spesso buono per per l'uscita di di pugno quindi è un guanto diverso dai tradizionali guanti steccati con una struttura particolare e classica cioè c'è un unione tra l'uso del legno prende e del silicone e le classiche stecche è un guanto in definitiva che io consiglio se uno vuole qualcosa di diverso ma senza eccedere diciamo che in quest'ultimo periodo i guanti steccati non sono tantissimi c'è un po di minor scelta rispetto a un po di tempo fa però il one protect 1 erede del power cut level power resta comunque uno dei guanti che più consiglio se hai bisogno di stecche compresa quella sul pollice un'ultima cosa se il video ti è piaciuto lascia un like se hai delle domande da fare inerenti al video scrivile nei commenti e ti ricordo fondamentale se devi acquistare i guanti fallo su portierecalcio.it ciao